Andando male, mi hanno fatto il sandwich Sì, ti hanno chiuso da tutte le parti Guarda come corro Vai, distruggi l'uovo Corri, corri Ti prego Devo fare attenzione che non arrivi anche Mi sta facendo le fintine Io tra un po' faccio una mossa kamikaze per ammazzarlo Ok Tipo così Vai, vai Mi spacca il culo Sono caduto Ecco qua, bravo Paro, paro, colpisco Paro, paro, colpisco Colpisci, vai Paro, 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 colpisco E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Steph E questo è Gigiacremo a Minecraft con il minigioco Egg Wars Ci siamo preparati tantissimo ragazzi Abbiamo giocato diverse ore Ormai sento la forza che scorre dentro di me Sono prontissima ad affrontare le Egg Wars Voglio distruggere tutti Perché mi danno fastidio Capito? Quindi adesso li picchierò Così come picchi a te No, non picchi a me Te la prendi troppo a cuore Quando c'è da ammazzare di botte la gente Perché bisogna vincere Sempre Siamo pronti per iniziare Ok Controlla bene dove sono gli spawn di Iron Di Gold e di tutto quanto Perché tu andrai a rushare E io difenderò Sai perché? Perché non lo fa a me nessuno Hai già deciso tutto Sì, ho già deciso tutto Perché mi piace difendere Mi piace tenere d'occhio tutti E vedere che nessuno prova a distruggere il nostro uovo Prendi subito l'Iron Ok, fatto, fatto Te calma So quello che devo fare Allora ho visto che c'è l'uovo lì Esatto Va subito riparato Qui dentro Il mercante Questa mappa l'abbiamo fatta a poco Non me la ricordo Poi c'è Tra l'uovo e dove sono io Un buco dove c'è il Gold Loro Ok Che tu non stai vedendo È lì No, no Dall'altra Da che parte? Lì, giù, destra Un po' più a destra Lì, su, brava Esatto Grazie per questa spiegazione molto esplicativa Un GPS È scomodissimo Ovviamente lo spawn del Gold è rotto Quindi lo dobbiamo distruggere Come sempre Devi andare mid Prenderlo e ripararlo Per avere la produzione anche in casa Cavolo, ma c'è già gente che è già lì Io stavo... Stavi parlando? Sì Quello è il problema È scomodo un po' avere il mercante dentro, vero? Non mi piace molto di questa map Ok Hanno già distrutto l'uovo dei così, dei rosa Rosa, pink Cattivi, eh Cattivi Sto pensando, sì Perché sono tutti partiti all'attacco Tu sei ancora lì dentro a scambiare le merci col mercante Quindi non siamo messi troppo bene Mi stai criticando? Sì, sì Era una critica neanche troppo velata Perché te l'ho detta in modo esplicito Quindi, ok Di chi è questo percorso? Hai tu, ok Vedevo anche quello, mi sono spaventando Mentre cerca di capire chi sembrano i team migliori Così, magari punto alle loro uova fin da subito Sai com'è Ci divertiamo Allora, questi a fianco a noi che dovrebbero essere i rossi Sì, lo vado da quella bandierina Ok Sono già pronti Sta andando subito anche lui al centro Vedi che a fianco a te Se ti gira la tua destra Ah, ok Sì Sì, però è in ritardo, eh Perché tipo E guarda anche i gialli I gialli è la tua sinistra Esatto I gialli hanno addirittura già fatto andata e ritorno Quindi i gialli sanno come si gioca Allora, no Questa cosa è già a livello 2 Guarda me, guarda me Ok Aspetta Che stai combinando Aspetta, aspetta Che stai combinando Vai, vai Picchia tutti Picchia tutti Ne hai uno dietro, ne hai uno dietro No, no, vale Mi hanno fatto il sandwich Sì, ti hanno chiuso da tutte le parti Guarda come corro Vai, distruggi l'uovo Corri, corri Ti prego Vai Non morire Non puoi morire adesso Distrutto Aiuto Sì, uno è andato Può anche morire adesso con l'onore Attenta, vuole vendicarsi Vuole vendicarsi Dove lì come corre? Io non ho niente Ok, io sono morto Aiutami No, tranquilla Perché non ho ancora fatto l'arma Ho solo la natura Vado a farmi al volo l'arma No, non sta arrivando Ok Ok Non sta arrivando Non lo so No, perché l'ho visto correre fin da subito Mi sono spaventato un po' Ho detto Ma deve difendere lei E ho avuto paura Io sono bravissima a difendere Non ci provare Insomma Non ci provare Perché Mi sono allenata duramente E ho anche la mia spada qui A me sembravano messi bene Li vedevo proprio pronti per farmare Quindi mi sembravano messi bene Esatto Allora Allora Il gold era qua Vieni che te l'attivo Vai Vai Vedi È tutto nascosto È davvero difficile Tenere il controllo di questa mappa Essendo sola Perché solamente in due Allora Tieni Ok, distrutti anche i viola Ti ho lasciato anche altri 5 gold Quindi con altri 5 Ti puoi potenziare Con altri 10 No, 5 Te ne ho dato io 5 Ah In quel senso Ok, ok, ok Non ti stavo capendo La tua matematica Non ti ascolto sempre bene Ma vedete che non ti ascolto Troppo concentrata Ma che concentrata? Fa cosa? Vai L'ho potenziato a livello 2 Perfetto Adesso abbiamo una produzione di oro Molto, molto più forte Money grabber Devo farmi del cibo Money grabber No, il fatto è che voglio vincere Capito? Allora Mi devi dare ordini Perché io sono il tuo mercenario In pratica In queste partite Ok, vedi sì Mi piace Vado a puntare Ad altre uova O prendo un po' di diamond? Ci sono ancora molti Molti team attivi Quindi bisogna stare Un pochettino attenti Forse altre uova Tu che dici? Qua sta succedendo Che stai zitto? Che sono al centro A prendere il diamond Quindi Allora Non mi sembra Che stia arrivando nessuno Perché sarebbe anche comodo Il diamond Perché poi se andiamo A rasciare vestiti bene Cioè li spacchiamo Perché non penso Che molti si siano Equipaggiati bene in base Cioè molti stanno morendo E non mi sembra che ci siano Poi così tante persone al centro Guarda che Se tu guardi bene Siamo soltanto tre team Con l'uovo Quindi non sono tanti Sono già morti in parecchi Esatto Esatto Quindi bisogna anche Pensare a equipaggiarsi bene Allora l'oro Fai vedere quanto c'è N'è qui sotto Non dobbiamo sprecarlo E niente Lo sto portando Lo sto prendendo Ok vai Hai il diamante Quindi ora devi fare Su e giù Su e giù Certo È impossibile Clicca e ballache Tieni Ti faccio due doni Guarda che belli Mi devi dare 12 gold E due diamantini Bello bello Grazie grazie Oh guarda Guarda qua Il purple vuole fare lo scemino Il purple Se lo ammazziamo Non torna più in vita Quindi è da solo Vattene via Vai via Bravo Bravo Cosa vuole fare poi Ok ha deciso di puntare Ai gialli Ha capito che con noi Era meglio Non rischiare la sua vita Almeno una cosa equa No Pussa via Ci sono anche gli arancioni Lo vedi? Pussa via Infatti adesso spero Che si incontrano loro due Ok No 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 Vuole venire Tieniti pronta tu eh Sì sono pronta Sono pronta Ok Guardalo Devo fare attenzione Che non arrivi Mi sta facendo le fintine Io tra un po' Faccio una mossa Kamikaze Per ammazzarlo Ok Tipo così Vai vai Mi spacca il culo Sono caduto Ecco qua bravo Adesso questo verrà qua dritto Pronta a buttarlo giù eh Arrivo Ma è caduto da solo Ma stai scherzando? No Cioè io lo stavo aspettando È corso storto Ed è caduto da solo Va bene Mi ha dato la kill Grazie Sì 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 assolutamente Sono stato brav Diri che sono stato bravissimo Bravissimo Grazie Grazie L'applauso ci vuole Scusate Sono caduto come una pera Allora il diamond Questo lo dobbiamo Assolutamente comunque Portare su Perché ci mette una vita Ce ne sono solamente 5 Quindi dobbiamo subito Portarlo su Devi portarlo al 2 Con 10 diamantini Esatto però devo fare su e giù Perché altrimenti ho paura Che arrivi qualcuno Con una rushare Quindi Allora Bisogna fare attenzione Perché il letto È il letto Abituato alle bedwars L'uovo non è Non è ben coperto Ha solo della sabbia Che si distrugge in fretta Visto che sei il capo Ti fanno più paura Hai deciso che sono il capo Gli arancioni Ok O i neri I neri I neri Sì Ok per il colore Sì esatto Il colore spaventoso Che ispira cose brutte Quindi i neri Ok Che succede? Attualmente gli arancioni Stanno litigando con i neri Buono Tu lasciali fare Dammi i 5 diamantini Tieni ne 8 Paga Grazie Ok Gli arancioni Stanno distruggendo tutti Quindi forse Era meglio avere più paura Vedi? Avevo ragione io Sono cattivi Non siamo buon capo Non siamo buon capo Stanno picchiando tutti Per fortuna Non ci stanno calcolando Uh Però Arriva il pawn Hai visto? Attenzione Gli arancioni Sono lontani Aspetta Gli arancioni Sono senza letto Ok Ok Ma i neri È solo uno Quindi siamo l'unico team Con letto In due Questo è pesante Eh sì E beh Sono più vicini loro Giusto Per quello Sì sono vicini tra loro Quindi si massacrano Capito Eh certo Allora Prendendo il diamante Vedo il nero Li hanno distrutto l'uovo Perché è nell'isola dei gialli Non so bene perché Secondo me Sto appuntando a noi Sì ovviamente ci vuole Però È armato in pelle Io sono armato in ferro Non vorrei offenderlo Eh Però non credo Che abbia grandi possibilità Di ammazzarmi Magari è bravo Non lo puoi sapere Quanto bravo Per riuscire a farcela Fortissimo Non lo so Fortissimo Come una catapulta No Come un guerriero Un guerriero vichingo Esatto Ok allora Mi faccio Ah io sono quasi vicina Alla totale copertura del letto Non è vero Mi manca ancora un sacco Ma dai Sei lentissima Mi spariscono i blocchi Ma come Non lo so Allora Guarda Ma stai controllando ogni tanto Se arriva il tipo nero No Niente Infatti è arrivato Uh dov'è Qua Uccidiamolo È morto Ok Eliminato Perfetto Ti sei morto alla scena Era tutto ranicchiato e nascosto Facendo il giro dell'isola Ho mirato La freccia ha colpito Ha caduto Finito Finita la sua La sua bellissima impresa Esatto La sua bellissima impresa Terminata Ma poverino Ok Io te l'ho detto che aveva poche chance Avevo ragione fino a subito Ah sì 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 Hai avuto ragione Non mi ispirava fiducia Hai avuto ragione Meno male che Che lo ammetti Sono pronta Sono pronta Ho fatto tutto Finalmente Allora Occhi aperti Perché se vedi qualcuno Che sta per sparare frecce Io provo a parare con lo scudo Ok ok Quindi il tuo obiettivo In questo momento È osservare Osservare Perché tu non hai lo scudo Come ho fatto tutto Esatto Continuo a farlo anche adesso Guarda com'è lenta Facendo i saltellini Ma allora Non sono lenta Sono prudente Ok Allora vuoi morire Cascando di sotto Sì Così Rage quitto Guarda te lo dico Dove stiamo passando Ma stiamo sicuri Che stiano in balde No Minimamente Non ne ho la minima Vanno a distruggerci L'uovo adesso Cioè No ok Li ho visti Li ho visti Li ho visti Aspetta Ho anche dei blocchi Me li metto un attimino in barra No Tu devi guardare Davvero Guarda e basta No sì perché Se ci sparano con le frecce Ma sono dentro Ti vedi che sono dentro Dentro la casa Stanno farmando il diamond Suppongo Ok Perché sopra c'è il diamond Vieni 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 Ti ho fatto le scale Aiuto Anche io Ok 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 Siamo molto vicini Ok Sta sparando Veloce 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 Mi lancio Ok 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 Quindi hanno l'arco Era ovvio Si sono barricati Che facciamo Allora Allora Non penso che stai andando Ascolta me Facciamo i vichinghi Ok Ti mangi la mela Mi metto lo shield E andiamo dritti Tu stai dietro di me E poi Carica di brutto Verso di loro Ti piace Vai Vai Mangia la mela Ok Vai 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 No non pari Si si paro 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 Non ti vedo parare Vai tranquilla Ok ok Vai vai No mi ha buttato giù Come Non lo so Ero esattamente dietro di te Mi ha buttato giù Cavolo Non ti vedevo parare La cosa strana è quella Non ti vedevo parare Ne ho un casino Rimane Uccidilo Ti prego Uccidilo Mi sto concentrando Tantissimo Uccidilo Uccidilo Oddio E' andato E' andato E' morto Meno uno Si Si Meno uno Dai ti prego che vinciamo Ti prego Ti prego Devo mangiare la mela Ok Paro Paro Colpisco Paro Paro Colpisco Paro Paro Colpisco Paro Paro Colpisco Mori Devi morire Morissimo Dai mori Cioè non è possibile Che vuoi fare Tanto senza uovo Devi morire Perché non muore più Questo scemo Aia Aia Non muore più Mela Mela Ok Vai Vai Meno male che ti ben equipaggiato Guarda Meno male Ok Yeee Ce l'abbiamo fatta Non poteva vincere Dai Ce l'abbiamo fatta Due ore che si prendeva a sberle Dell'ascia Ce l'abbiamo fatta Prima partita Prima vittoria Proprio Mamma mia Prima partita del video Perché se guardi le statistiche Ci abbiamo No First time First play Non è vero Non è vero Guarda Io ti Allora Noi andremo qua Dove Qui Nella classifica Dei migliori 5 Non è vero 250 vinte Ci vogliono 6 mesi Allora No che poi Non abbiamo giocato Neanche così tanto Io tipo Ne ho 6 vinte Ok Tu quanto ne hai 7 vinte Con Match giocati Non li dice 31 Fateci sapere Se volete vedere Altri video Tra Egg Wars Bad Wars Magari anche Sky Wars Anche se su Sky Wars Ancora non ci siamo proprio Sky Wars Facciamo un po' schifo Quello si Lo ammetto Dobbiamo ancora migliorare Quindi fateci sapere Sia se vi è piaciuto Il video Sia se volete vedere Ne altri Tra Egg Wars Bad Wars Sky Wars E tutti gli altri nomi Cioè sono all'infinito Potrei fare la lista infinita Esatto Beh ragazzi Il video è finito così Se vi è piaciuto Ascettici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!